Ho invitato all'incontro del 14 amici, ex alunni che non vedo da tempo, la mia vicina di casa e il curato. E invito anche voi che mi state ascoltando, perché sono sicura che quella sera avrò la possibilità di scoprire e conoscere di più, capire di più, chi e che cosa hanno cambiato la mia vita e che può cambiare la vita di tutti, adesso, in meglio.